Per i professori, anche se sono parte di tutti i sensori, e gli assessori, e il dirigente, considerato che non sono sempre un'esercizio, che è la proposta, non è che non è possibile portare un schiavo a nuova, comunque il mio senso è liberato la questa conferenza, che è sicuramente formata bene, quindi si sa con ospito, Grazie. Grazie.